Io ho festeggiato lavorando per la mia cittadinanza, aiutando per la pulizia delle spiagge, ho visto l'approssimarsi dell'estate e già dalle 6 del mattino ero al fianco dei lavoratori sul lungo mare della Scogliere e via proseguiremo ogni mattina come è il mio costume. Mi sembra doveroso ringraziarli in questo modo per la fiducia che mi hanno accordato. Io ho conosciuto il suo papà.